mi sentono molto bene anche da qui ciao 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 grazie di essere qui 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 con me oggi 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 è un video che se seguite il mio canale da un po' avrete sicuramente visto un po' di volte perdonate la macchina che passa ed è il proviamo nuovi microfoni allora questi sono nuovi microfoni importanti nel senso che se mi troverò bene se mi piaceranno se vi piaceranno diventeranno un po' i microfoni ufficiali del canale qui ho una puntura di qualcosa e quindi per me è assolutamente fondamentale il vostro il vostro contributo il vostro supporto in questo video in generale video ma in questo video perché voglio sapere cosa vi piace e cosa non vi piace se vi piacciono più questi se vi piacciono più i precedenti quali trigger vengono meglio con questi microfoni quali vi convincono di più quali di meno fatevi assolutamente sentire perché io faccio video smr per voi quindi ci tengo veramente tanto e ricordatevi anche di mettere sempre un cuoricino al video oggi andremo appunto a provare questi microfoni con un po' di suoni è la prima volta che li utilizzo e mi sono arrivati tipo mezz'ora fa e ho detto calma adesso registro il video subito perché devo sono troppo curiosa però non ho capito se devo usare da questa parte o da questa penso sia identico ma non l'ho capito molto per farvi capire ci sono varie impostazioni devo un attimo lavorarci devo capirli e ci saranno anche altre novità in ambito audio cambierò i cavi sotto i microfoni cambierò il registratore che è questo qui che è lo Zoom H5 che ho da tanto tempo che ormai è mezz'ora otto quindi l'audio dovrebbe aumentare di qualità ancora di più però questa è la novità principale e questi sono i microfoni di GVSMR che ha da un bel po' penso da un paio d'anni mi sono un po' fidata di lei in questo caso e ho voluto mi piace molto la sua qualità audio e visto che i microfoni dopo un po' penso che anche i miei microfoni più nuovi avessero almeno un anno e mezzo e sono soggetti un po' ad usura quindi ogni tanto vanno cambiati e io comunque voglio sempre garantirvi la miglior qualità questi insieme al 3D sono i microfoni più costosi che possiedo e sono 1000€ capozzo circa però appunto è la parte più importante l'audio quindi sono contentissima sono emozionatissima e adesso proviamo tutti i trigger voglio solo provare a girare i microfoni perchè se non capisco se la qualità è migliore da questa parte o da questa parte a me sembrano identici ditemi voi ok ovviamente ho portato i trigger più classici in assoluto e poi ci saranno anche un po' di non sa insomma tutti i trigger che più o meno vedete sul mio canale quelli tipici cominciamo da un grande 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 classico che sono i gelatini allora dovete perdonarvi mi rendo conto che sto parlando molto velocemente oggi sono un po' emozionata quindi va bene così e cercherò di rallentare perdonatevi e che volte sento che ho tante cose da dire ma non mi prendo mai il tempo di dirvele o comunque ho paura che non apprezziate le parti un po' più parlate e quindi alla fine uno le dico o le dico a metà o le dico super veloci comunque questo video appunto è un po' così è proprio una prova e un voglio assolutamente sapere cosa ne pensate ovviamente il primo trigger è che sono i gelatini che non faccio da tantissimo tantissimo tempo tolleranno direi ottimi il suono è perfetto Anche il rumore di sottofondo è veramente minimo Io non tocco l'audio, quindi L'audio che sentite è l'audio che viene direttamente dai microfoni Vediamo Non c'entra ma devo anche capire come ottimizzare questa fotocamera Perché fa un po' fatica mettere a fuoco Mette a fuoco dopo una vite Comunque vedete che nonostante sia qui davanti Fa fatica Non so se non sono impostazioni ma Sono molto impedita Questo di solito inizio dell'anno È sempre il periodo di rinnovi del canale Nuovo anno Nuove Nuovi oggetti Nuovi strumenti per il canale È sempre stata così Non mi ricordo l'anno scorso cosa avevo preso Però anche l'anno scorso E insieme a questi appunto Ho comprato Due cavi Di alta qualità E l'altane ho comprato uno Credendo che venne comprati due Quindi dovrò comprare il secondo Mi appunto anche il microfono Ho comprato poi due luci Adesso io registro con una semplicissima ring light Ho un set molto semplice Io punto sulla semplicità perché Più si complicano le cose Più mi perdo Previsco a puntare su poche cose Ma di qualità E ho preso altre due luci Perché vorrei ricominciare a usare Il green screen E sto indicando dietro perché Il green screen è Qui dietro Dietro a questo sfondo C'è un green screen attaccato al muro Che si tira giù Che ho comprato E ho usato tipo tre volte Perché non ero soddisfatta delle luci Della qualità Dalla dalle luci E mi sono deciso finalmente A comprare le luci nuove Perché le luci che avevo Come molte luci Hanno il difetto di essere Leggermente Leggermente E C'è stato un taglio C'è stato delle campane Scusate Sono distratta Stavo dicendo che Molte luci Hanno il leggero difetto Di avere un leggerissimo Ronzio di sottofondo Che in video classici Non si sentirebbe In video smr Si sente Rende l'audio molto più sporco E Non lo sopportavo Ma Da brava procrastinatrice Come sono Ho rimandato Praticamente lì un anno Questo acquisto Perché avevo paura Che qualsiasi luce Faccesse così E io Odio fare Resi Odio restituire le cose Odio Comprare un prodotto E scoprire che non è adatto Cioè proprio Non lo sopporto E Ci sto lavorando Però Faccio fatica a sbagliare E ad accettare lo sbaglio Anche piccoli E Quindi Appunto Per non sbagliare Allora Non ho fatto niente Cioè se non fai Non sbagli Però non c'ero puntato Basta Cioè Mi va proprio Di tornare a fare video Anche con il green screen Un po' più carini Ma in generale E anche la luce Secondo me Nei miei video Può essere migliorata Quindi Ho comprato anche Due faretti E poi penso Comprerò anche Un pochino di cosine Tipo Oltre al Registratore Penso comprerò anche Un nuovo Tascam Che è quel microfonino Che amate tanto Con cui Adoro fare Mouth sounds Perché Ne ho due Ma entrambi Col tempo Si sono Ruvinati E Entrambi Mi danno problemi Però Sono microfoni Che per fortuna Sono Per essere microfoni Relativamente Economici E Sono Ci sto a prenderli Anche solo Per fare un video Ogni sei mesi Con questi microfoni In realtà Comunque Io ho comprato Anche degli altri Microfoni Che avete sentito Nel video Fatto in montagna Non so Chi abbia visto Questo video Di voi Quello proprio fatto Sulla mese E Lì ho usato Dei microfonini Piccoli Piccoli E stavo pensando Che in realtà Non ve li ho mai Però presentati Quindi Potrei fare un video Presentazione Anche di quelli Vediamo Ok Un minuto di questo Senza voce E poi cambiamo Un minuto di questo Un minuto di questo Un minuto di questo Bellissimi Passiamo ora al tapping Semplicissimo Su questa Custodia Custodia In finta pelle Quindi in plastica In questo caso In plastica Tutto un po' Azziclinata Vediamo se riesco a farvelo vedere Sì Un po' Si vede E Io odoro il tapping Su questo oggetto Mi sono accorgata L'unchio Oggi Quindi Non è un tapping Che è entusiasmante Entusiasmante Ma Non sono comunque corte Ecco Un po' di tapping Un po' di scratching Per provare un po' tutto E' bello questo E' bello questo E' bello questo E' bello questo Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, non so in cui faremo, però proprio c'è a tuo rimorre una certa canzone che niente, non riesco a smettere di sentirle nella mia testa. Ecco, adesso c'è tutta una volta, vi giuro. Quindi se vedete la faccia strana perché c'è queste canzoni che veramente non mi lasciano stare perché siamo stati esposti dell'ultima settimana sulla queste. Mi piace, ma... No, non so. No, non so. Com'è questo? Dopo questo, l'ultimo che volevo provare sono i mouth sounds. Facciamone una sfilza così un po' a caso, giusto per capire se questi microfoni sono adatti o meno. Ok? Cos'era? Non mi ricordo... L'ho fatto io, non mi ricordo, l'ultimo i mouth sounds li ho fatti con i microfoni che non vi facevano impazzire. Quindi vediamo con questi. E presto arriverà un altro video di mouth sounds, direi. Quello è marzo, che abbiamo i wet. Lo sentono molto bene anche da qui. Questa è un po' a caso, non mi ricordo è un po' a caso. Questa è un po' a caso, non mi ricordo è un po' a caso, non mi ricordo è un po' a caso. Questa è un po' a caso, non mi ricordo è un po' a caso, non mi ricordo è un po' a caso. Questa è un po' a caso. Io non mi ricordo è un po' a caso di quanto è un po' a caso, non mi ricordo è un po' a caso. no ho provato anche l'inamotipolo, facciamo un po' di un cabello tic 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 ok allora io direi che abbiamo sperimentato su questi microfoni non lo so non ho fatto brushing non ho fatto niente perché ho paura di rovinarli unica cosa proviamo l'ultima cosina mettendoci il la spugnetta sono queste qui e sono appunto mi sono arrivate con i microfoni ok questi l'audio è diverso molto diverso molto più vattato assolutamente ditemi ditemi se vi piace di più con la spugnetta o senza io forse preferisco senza questo è un po' troppo vattato per me non lo so ditemi voi io sono un po' più confort questo forse anche un pochino più pulito non è il mio preferito però non lo so però ve lo faccio sentire per tutto il resto dei video così potete un attimo vediamo valutare voi vi fare un attimo sentire anche giusto al tapping comunque sono pulitissimo, pulitissimo, che gioia siamo giunti alla fine di questo video, ripeto, semplicissimo è proprio il solito video che faccio io di presentazione di un mio nuovo bimbo i miei gemelli, a parte gli scherzi dei nuovi arrivati, dei microfoni che spero con tutto il cuore vi piaceranno ma ditemi la vostra sincera opinione, perché appunto è molto importante, cambia tanto l'audio dei video smr penso che più o meno assomiglino agli altri eyes and eyes and eyes non li sapete, i nuovi comunque, ai soliti che uso, che hanno più o meno anche la stessa forma siano leggermente più puliti come suoni però penso che ci assomiglino molto come concetto, a me piace molto per questo ok, io vi ringrazio di essere stati qui con me fino ad ora e come al solito veramente grazie sempre di tutto e io penso proprio penso proprio penso proprio si è giunta l'ora abbassare le luci e augurarvi e io vorrei augurarti augurarti una buona notte buona buonanotte sogni d'oro good night buona buonanotte 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 guardatemi i piccoli pasticcini al tiramisù un bacione te li spero